E dopo le Olimpiadi di Parigi, benvenuti alle Olimpiadi con i fenomeni del Sintol. Un saluto da Simone, nutrizionista, allenatore e coach. Ricordatelo. E ricordati che se vuoi un pre-workout allucinante, senza caffeina, che ti aiuti in palestra, in campo e non solo, c'è Torello. Vai poi sul mio sito simonepagnottoni.it a comprare le magliette maledetti natural, riso, pollo e broccoli super anaboliche come il gruppo Telegram. Non puoi non venire sul gruppo più anabolico d'Italia dove parliamo di bodybuilding, natural e non è tutto quello che ci sta intorno. Trovi il link per Torello, per il gruppo Telegram e anche il codice sconto simopagno per andare su Yamamoto Nutrition. A prendere un sacco di prodotti fantastici, intra-workout e post-workout eccezionali. Ad esempio, per non parlare di tantissimi integratori minerali, ho della classica, fantastica Ashwagandha. Adesso, perché devi prenderla lì? Perché se spendi 80 euro, hai il 10% di sconto, più il codice simopagno diventa 15%. Fantastico! Seguimi poi a Parigi per le Olimpiadi su Instagram, su Facebook e su TikTok. Ma adesso vediamo subito di capire di che cosa si tratta. Che cos'è questo Sintol? Un Side Enhancement Oil, ossia una miscela di oli. Nello specifico, il Sintol è composto all'85% dagli MCT, medium, central glycerides, quindi trigliceri di acidi grassi più il glicerolo, a catena media. Quelli dell'olio di cocco, per intenderci. E anche nell'olio di palma. Sì, c'è qualcuno che dice che fanno dimagrire, ci abbiamo fatto un video anni fa, quando ero secco e natural. Tu dici, adesso non è che tu sia che cosa, Simo, però... Vabbè, sono sempre secco e natural. Forse un po' meno secco? Il restante 15% si divide in 7,5% da alcol e un 7,5% da lidocaina, che è un antidolorifico, un anestetizzante, quello che si usa per i tatuaggi, per intenderci. E l'alcol, che chiaramente aiuta a sterilizzare il tutto, riducendo quindi il rischio di infezioni batteriche. Cosa succede? Si usa questo per far apparire i muscoli più grandi. Quindi si inietta in loco nel muscolo che vogliamo, appunto, ingigantire. Il primo muscolo, il più iniettato in assoluto, è papà bicipite. Io lo farei nei polpacci, però vabbè, ognuno ha le sue. Quindi una volta che entra nelle fiebre muscolari, questo MCT, l'ingrediente principale, quindi i trigliceri di a catena media, iniziano a espandersi. L'effetto è immediato. Intanto il sintone non è uno steroide anabolizzante, non contribuisce alla crescita muscolare. E non viene assorbito. Rimane lì, si indurisce, creando del tessuto fibroso cicatriziale, lasciando quindi muscoli non più forti, bensì danneggiati dalla presenza di questa sostanza della quale il nostro organismo vorrebbe liberarsi. E attenzione perché anche se questo liquido può essere rimosso con un'operazione chirurgica, con una piccola operazione chirurgica, porca miseria, guarda qua che roba, le cicatrici che si formano all'interno del muscolo possono essere permanenti. E tante volte è necessario quindi togliere anche parti di muscolo danneggiato, quindi perdi anche massa muscolare. E poi sai com'è? Se usi il sintone ci sono solo due o tre complicazioni, poca roba, tipo fibrosi muscolare, quindi appunto la creazione di tessuto fibroso all'interno del muscolo, queste cicatrici delle quali parlavamo. La formazione di noduli estremamente dolorosi di granuloma, oppure una simpaticissima embolia polmonare, ma anche chiaramente problemi dovuti alla presenza di infezioni che possono essere chiaramente letali, ma anche crisi respiratorie e chiaramente ictus, infarto e trombosi. Quindi l'unico modo per rimuovere poi il sintone è un'operazione chirurgica e su questo abbiamo anche dati scientifici a riguardo. Si possono usare anche altre sostanze, ad esempio il PMMA, PMMA, polimetilmetacrilato, che serve un pochettino a dare la shape, la forma al muscolo, ma non approfondiamo. Rimaniamo sul più comune e il più utilizzato ad oggi che è proprio il sintone, ahimè. Ma passiamo adesso ai protagonisti delle nostre Olimpiadi, i fenomeni del sintone, persone che hanno usato, o meglio, abusato di questa sostanza e ci hanno addirittura costruito un personaggio, una carriera sopra. Top 5 di queste Olimpiadi, più un personaggio del quale dobbiamo parlare. Al quinto posto c'è quest'uomo, Valdir Segato, morto due anni fa a 55 anni per crisi respiratoria, l'abbiamo detto, è una delle conseguenze dell'uso di sintone. Dice, è una mia decisione, i medici mi hanno più volte consigliato di smettere di usare il sintone, ma è una mia decisione, lo faccio perché mi piace. Alziamo le mani, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma vediamo perché quest'uomo è arrivato al sesto posto delle nostre Olimpiadi. Perché, signori, ha veramente due comodini al posto dei trapezi, specialmente quello destro, si vede che gli piaceva di più, bicipite esagerato, notiamo anche la vascularizzazione incredibile, avambracci zero, probabilmente un pochino si allenava, eh, quest'uomo, e poi ha deciso di farsi crescere le tette, eccole qua. Un gran pettorale, veramente, veramente gran, un grandissimo pettorale. Oh, guarda qua la vena basilica, braccio c'è, eh. Trapezio destro, forse, qua ha sbagliato le dose rispetto al sinistro, deltoide pieno, ma non come le braccia, e poi un uomo che voleva semplicemente avere le tette, eh, queste sono effettivamente delle tette rifatte, guarda qua come sono, come si schiacciano l'una con l'altra, sono un po' protette. Grande, va al dirsegato. Al quarto posto abbiamo lui, Mustafa Ismail, che ha dichiarato di avere un bicipite da 78 centimetri, però poi al Guinness World Records gliel'hanno misurato e sono solo, solo, roba da natural, circa 64 centimetri. Like my nutrition, based on a lot of protein and carbohydrates, plus my genes help me. Grande, grande. Cioè, un'alimentazione basata su proteine e carboidrati. E magari anche grassi, no, fenomeno. Io che non ci ho pensato, quindi basta mangiare proteine e carboidrati per ottenere un braccio così. Porca miseria. E lot of proteins. Quello era il trucco. Non il sintone, no, no. Non il sintone, assolutamente. Grande Mustafa. Al numero tre c'è un personaggio particolare. L'iracheno Farazdak al-Samawi. Vediamo che braccio impressionante ha quest'uomo. Ma non è questo il punto. Eccolo qui. Quest'uomo si è iniettato nel tricipite, nel bicipite, nel deltoide, nel trapezio. Trapezio superiore, trapezio medio, trapezio inferiore. Molto probabilmente è addirittura nel gran dorsale. Amici, ovunque. Guardiamo l'ampiezza di questo dorsale. È incredibile. Questo è un bodybuilder. Si allena, fa la vita del bodybuilder. In più si inietta in un poco. E non solo sintol, perché guardiamo queste chiazze. Chiaramente d'acne storica, ancestrale, dovuta al chiaro utilizzo di steroidi. Braccio pienissimo. Troppo, ovviamente. Deltoide è una roba incredibile. Col pettorale non ha esagerato così come col braccio. A parte Valdir segato, gli altri, a livello di gran pettorale, non stanno dietro a questo fenomeno. Vediamo che la vita è normale, stretta, pantalone da bodybuilder. E purtroppo ha deciso di esagerare con tutto il resto. E al numero due, purtroppo solo al numero due, il mio preferito. Il bodybuilder più odiato di sempre. Greg Valentino. Perché è odiato? Perché lui negava di aver usato Sinto. Lui diceva no. Io uso solo Test Prop, testosterone proprio nato, e Equipose. L'Equipose sarebbe il Boldenone. Dicendo, secondo una sua particolare teoria, che con questi due si ottene un doppio effetto. Perché si ottene l'allungamento del muscolo tramite lo stretch della fascia. E l'iniezione locale di questi due composti causerebbero appunto la crescita specifica del muscolo dovuta ai farmaci in questione. Ma che brutta roba! Eh, si allenava, va bene, con questi bicipiti impressionanti. Greg Valentino. Guarda qua che roba. E niente, lui voleva semplicemente le braccia più grosse del mondo. È arrivato a 71 centimetri. 71 è qualcosa, guarda qui. Mamma mia, anche tricipite impressionanti. Anche deltoidi. Pienissimo. Eccolo qui. Undici anni, guardiamo già che fisico aveva. Boom! Tredici anni, ragazzi! Ma questo sembra un ventenne che si allena da 4-5 anni. Guardalo lì. Tredici anni, only two months of training. Pazzesco. Dorso largo, le spalle. Guarda qui, guarda qui che belle forme. Quattordici anni, fantastico. Guarda qui. Forse non un gran picco del bicipite, ma braccia sicuramente ottime. È proprio una bella shape, proprio una bella forma. Quindici anni, appassionato di bodybuilding. Lui si è sempre allenato, è sempre stato appassionato. Eccolo qua. Guarda che bella spread. Guarda come si apre il gran dorsale frontalmente. Uh, questo pettorale è un po' asimmetrico. Beh, ma questo capita tanto. È la forma dello sterno. Ecco qua, già a 16 anni succede qualcosa. Qua ne dimostra 40 e non più 20. Qua si è gonfiato parecchio, un po' troppo. La S di Superman, non è la S di steroids. Eccolo qua. 17 anni? Eh no. Qua, questo trapezio dove il tuo amico sta appoggiando la mano, è un po' sospettino. È un po' sospettino. Bel fisico, signore. Un bodybuilder vero. Guardalo qui, guardalo qui che bello. Ma dai. Anche dalle cosce, non penso proprio natural. Guarda che schiena. Eccolo qui. Questo era Greg Valentino. Signori, questo era Greg Valentino. Un signor bodybuilder. Forse qui c'era già del sintomo, ma non credo proprio. Guarda che bel petto, che belle forme. Steroidi sicuramente. E probabilmente conoscendo il soggetto cicli magari non troppo leggeri. Guarda questa classic pose. Qui lo apprezziamo ancora meglio con un vecchio, un fantastico, una cassa toracica ampia. Io, ok, non un gran bicipite. Forse lui proprio lì voleva arrivare. Guarda qui che estetica, che cassa toracica. Cioè un classic physique di 30 anni fa, come si è ridotto. Da così a così. A lui piace così. Contento lui, mitico Greg, perché ha rilasciato tanti contenuti real, veramente real, perché all'inizio ci prendeva in giro, poi però ci ha raccontato tutto. Per essere informati su questo mondo, il mondo delle PEDs, del bodybuilding, in Enst, ti consiglio di guardare qualche contenuto. E ricordati che parleremo delle PEDs nel corso solamente informativo, dove sappiamo tutto di ogni sostanza dalla A alla Z. Come è fatta? Perché si prende nel bodybuilding? Quali sono gli effetti collaterali? I veri dosaggi? O almeno, quelli che trappelano i veri dosaggi li saprà solo l'atleta alla fine. Tutte le informazioni possibili e immaginabili nel corso, che partirà a breve. Mi raccomando, scrivimi per prenotarti. Ma andiamo al numero 1. Il braccio più grosso di sempre. Il fenomeno del sintol con un braccio da 73,6 cm. Mr. Arlindo de Sousa, dal Brasile. Che roba è? Anche un po' di pettorale, sicuramente. Tra pezzi sono pieni d'olio. No, pettorale forse... Sì, qualcosa c'è. E braccia impressionanti. Sì, dè qualcosa nel petto. Oh, dorso che si apre benino, eh? Ma volevo far vedere questo. Quanto era bello da natural. Mamma mia, che braccio. Un po' di pancia, eh? Questa foto è impressionante. Sembra photoshopata. Cioè, guardiamo gli avambracci quanto sono piccoli rispetto alle braccia. Impressionante. Mamma mia, 73 cm, ragazzi. Questa è la foto. Questa è la foto. Guardiamo anche lui quanto era bello. C'è un fisico bellissimo. Eppure, chissà perché si è voluto rovinare così. Standard troppo elevati? Forse sì, al giorno d'oggi, secondo me, sicuramente sì. E questi fanno sicuramente pressione sui giovani. Ma, sì, ma basta non farci la morale. Basta. Arlindo numero uno. Ma in realtà c'è un piccolo extra. Perché il più famoso abuser di Sintol è un altro capace di prendere più di 20 cm di braccio in soli 10 giorni. È arrivato a 62 cm. The Russian Popeye. Il braccio di ferro russo. Kirill Tereshin. Personaggio altamente discusso. Anche lui. Un bel fisichino prima di fare tutto questo scempio nelle sue braccia. Che bella schiena. Che bella schiena. Anche lui è appassionato di bodybuilding. Si è sempre allenato. Guarda che belle formine che aveva. Dai. E poi si è dovuto operare perché stava rischiando la vita. Guardano. Stava benissimo. Stava benissimo. E poi è arrivato ad essere questo personaggio qui un po' discutibile. Questo è lui oggi. Oddio settembre 2023. Qui aveva già fatto l'operazione mi sa. Grip strength. Uh. Questo è lui oggi. Mamma mia. Guardiamo che roba. Che operazione ha dovuto fare questo ragazzo. Purtroppo un altro di quelli che ha avuto tutti i suoi problemi che l'hanno portato a fare questa scelta. Può piacere può non piacere. Non siamo qua per giudicare. Però dobbiamo dire che purtroppo ad oggi è il più famoso. Brascio più grosso. Arlindo. Il mio preferito. Perché non ha veramente peli sulla lingua. Ed è così che si concludono le nostre Olimpiadi. Eh Simo ma non c'è Eros. Eros meglio che non ci sia. Lasciamo le Olimpiadi a questi fenomeni qui. E speriamo che il nostro Eros si salvi da tutto ciò. Eh. Che già sta facendo un bel lavoretto. Grande Eros vai avanti così che sei il numero uno. Meno Sintol. Meno steroidi. Più allenamento. E più dei tuoi bellissimi video che sei simpaticissimo. Grande Eros. E allora anche oggi ricordati che se vuoi un pre-workout allucinante che ti aiuta in campo, in palestra e non solo c'è Torello. Vai poi sul mio sito simonepagnatoni.it a prendere le magliette. Maledetti natural le risopole e broccoli se ti piace il padel. Seguimi anche sul mio altro canale Simo Pa dell'Academy. E su Instagram, Facebook e TikTok. Siamo andati a Parigi a fare le Olimpiadi. Vieni poi sul gruppo Telegram, il gruppo più anabolico d'Italia. Trovi il link in descrizione insieme a Torello col codice sconto Simo Pagno Coaching. E noi ci vediamo. Prossimo video così banale. Prossimo video. Da vuol dire. Roba da natural. Saluti.